E' una serata veramente speciale qui a Palazzo Brancaccio, non poteva mancare Tonino Boccadamo che è sempre presente in prima linea quando si parla di sociale. Sì, sono contento di essere qui in questa meravigliosa location e essere partecipato ad aiutare il reparto oncologico, il reparto pediatrico del Bambin Gesù. Noi con la Fondazione Boccadamo facciamo tantissimi progetti nel mondo e in Italia e soprattutto qui nel nostro territorio. Questo è quello che ci fa piacere e poter essere qui stasera è veramente un onore e un orgoglio. Faccio i complimenti agli organizzatori di questa bellissima serata e bene, speriamo che ce ne fossero ancora tante 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 altre ancora. Ecco, Tonino Boccadamo, in effetti oggi la leggerezza di alcune situazioni serve anche a far passare messaggi importanti. Ecco, un gran galà sì, però almeno si parla di tematiche importanti. Ecco, secondo lei quanto funziona la comunicazione in questi casi, alleggerire per comunicare anche temi importanti? È vero, bisogna prendere con lo spirito giusto, bisogna sì che il problema venga affrontato ma anche che venga fatto nella maniera, ecco come si sta dicendo, leggera e serena, portare a conoscenza a tanti del problema per poterlo risolvere con una goccia di tutti per poter fare appunto il famoso oceano. È importante che tutti noi possiamo dare il nostro piccolo contributo per queste bellissime cause. Grazie a tutti.